Una serata speciale per la comunità di Ponticino, stasera c'è un personaggio davvero molto conosciuto Fabrizio Bernini che porta a presentare in questa comunità il libro che sta ottenendo un grande successo per la gioia anche del sindaco che è qui al nostro fianco, insomma un momento importante per questa comunità. Sì, per noi è un piacere ospitare questa sera Fabrizio Bernini che ci presenterà il libro con la sua storia. È una storia veramente interessante e non è solamente la gloria del successo di un imprenditore importante ma è anche il racconto di tante sofferenze e di come a quel successo ci è arrivato. Quindi un messaggio importante per molte persone, per molti giovani che devono impegnarsi e devono mettere tutte le loro risorse per raggiungere certi obiettivi. Fabrizio è un libro di tutti ormai perché tutti lo conoscono, tutti l'apprezzano e tutti ne hanno capito anche il senso, il significato, è d'accordo? Sì, a me mi fa piacere il fatto di aver fatto questa operazione chiaramente con la capacità di scrivere di Filippo Buoni che comunque è una persona che io conoscevo non bene come lo sto conoscendo adesso uno scrittore splendido, uno scrittore veramente all'altezza della situazione. Io ecco, quello che volevo dire è che il messaggio, quando mi fa piacere, quando trovo le persone mi dicono che messaggio hanno letto, no, che era il messaggio che io volevo dare. Era un messaggio che volevo dare a tutti i miei collaboratori, in primis, e il motivo per cui l'avevo fatto era principalmente per questo e non avevo mai pensato a questo successo. Adesso siamo veramente a migliaia e migliaia e migliaia di libri, addirittura è uscita una edizione tutta in inglese, quindi praticamente il libro è un messaggio forte che però, ripeto, è spinto semplicemente dai giovani, cioè i fallimenti, le decisioni, il fatto di poter ritornare dove ero e non fregarsi la ricchezza, questa cosa qua è forte e fa capire quanto i più giovani oggi, se ce l'ho fatta io, ce lo possono fare loro.